Il trend di questa estate sono stati i braccialetti fatti di elastici colorati. Soprattutto i bambini ne hanno fatto un gioco e si sono appassionati alla semplice costruzione di questi gioielli di gomma da tenere e regalare. Ma attenzione perché proprio da pochi giorni è arrivato un allarme decisamente preoccupante. Pare che i piccoli elastici che compongono la materia prima di questi bracciali contengano sostanze estremamente dannose, anzi addirittura cancerogene. L'allarme arriva dalla Gran Bretagna dove pare che una nota catena di grandi magazzini abbia ritirato sia gli elastici sia i telai usati per confezionare i braccialetti dopo aver ricevuto notizie sulla tossicità della gomma con cui sono stati prodotti. Non ci sono ancora notizie certe ma la catena di grandi magazzini ha preferito evitare problemi visto che alcuni parlano di sostanze altamente tossiche che conferiscono grande elasticità al prodotto ma che potrebbero potenzialmente incidere sulla salute di chi li indossa. Se ne avete fatti o vi sono stati regalati questi braccialetti potrebbero potenzialmente essere dannosi quindi se potete forse sarebbe il caso di evitare di indossarli. Magari è un falso allarme e non c'è niente di fondato ma noi a scanso di equivoci preferiamo metterli in un cassetto. Certo ci fa piacere ricevere un regalo ma non se questo va a discapito della nostra salute.